Musica Musica C'è da dire per quanto riguarda le sfide tra Salernitana e Lecce le ultime tre sono tutte terminate con il risultato di 2 a 1 lo scorso fu la gara della prima giornata del torneo quindi 2 a 1 per la Salernitana intanto il pallone per Dumbia il destro e c'è il 3 a 1 da parte del Lecce con Dumbia fanno festa in panchina Lerda e i giocatori a sua disposizione una disattenzione difensiva della Salernitana pagata a caro prezzo dalla squadra di Menichini che prontamente sono stato smentito rispetto al dato statistico delle ultime tre sfide tra queste squadre non solo, qui è uscito fuori da Lepo che ha messo una palla indietro è riuscito a entrare in area di rigore una difesa ormai allo sbando una difesa che sta soffrendo sta soffrendo gli inserimenti degli esterni e qui abbiamo visto proprio l'azione è partita appunto all'esterno destro per essere conclusa da Dumbia all'esterno sinistro ed ecco il cambio che ci aveva preannunciato Fabrizio Cappella da bordo campo fuori nella Salernitana Andrea Bovo al suo posto dentro con il numero 16 Emmanuel Giandonato Salernitana 1-1 Lecce 3 il gol di Dumbia Salernitana 1-3 lecce 5